Vi condurremo passo dopo passo nella consulenza sugli investimenti plus, con la quale avrete sempre sotto controllo i vostri investimenti. Iniziamo. Cliccando su Offerte nel vostro eFinance, visualizzerete una schermata con la piastrella Aprire prodotti. A questo punto cliccate su Investimenti. Nella panoramica dei prodotti, cliccate su Aprire ora sotto Consulenza sugli investimenti plus. Le vostre risposte alle domande servono a stabilire la vostra capacità di rischio, ovvero il rischio che potete affrontare, e la vostra propensione al rischio, cioè il rischio che siete disposti ad assumervi. Le vostre risposte determinano quindi il vostro profilo investitore personale. Nell'obiettivo di investimento, indicate quanto denaro desiderate investire, per quanto tempo, e il focus di investimento che preferite tra Globale, Svizzera o Sostenibilità. A questo punto vi presentiamo una panoramica della proposta di investimento studiata per voi, che potrete modificare in base alle vostre esigenze. Inoltre, nella tabella Indicatori chiave, vengono riportati i principali indici. Nella scheda Portafoglio vi vengono visualizzati gli strumenti proposti e la loro ponderazione nel portafoglio. In questa scheda potete già personalizzare il vostro portafoglio cliccando su Modificare. Nella maschera Adeguare lo strumento, potete modificare l'importo destinato al relativo strumento di investimento e confermare la modifica cliccando su Adeguare lo strumento. Il tasto Aggiungere strumenti vi permette di aggiungere strumenti di investimento non ancora presenti nell'attuale proposta. Se lo cliccate, vi viene visualizzata la panoramica degli strumenti a disposizione. Potete filtrare l'elenco per Regioni, Categoria di investimento e Valuta. Per inserire un prodotto nel vostro portafoglio, cliccate sul pulsante Aggiungere. Se desiderate maggiori informazioni, cliccate su Dettagli. Comparirà una finestra in cui potete visualizzare una breve descrizione della politica di investimento, i dati di base del fondo, un grafico con la performance storica e i link ad altri documenti dettagliati. Quando personalizzate la proposta di investimento, nei due grafici a destra potete vedere gli effetti delle modifiche che state effettuando. Sotto Ampiezze di banda trovate eventuali scostamenti del vostro portafoglio rispetto alla strategia di investimento scelta. Nel profilo di rischio-rendimento, invece, visualizzate il vostro portafoglio e la strategia di investimento nella matrice rischio-rendimento. Nella scheda Confrontare avete la possibilità di confrontare le varie strategie. Qui potete confrontare la composizione delle classi di investimento, i principali indici, la performance passata, i rendimenti previsti per il futuro e la posizione all'interno della matrice rischio-rendimento. Cliccando su Vai al contratto, visualizzate un riepilogo dei dati da voi inseriti e le basi contrattuali per la conferma. Vi vengono mostrati ancora una volta tutti i dettagli e il contratto. Cliccando su Stipulare ora, procedete alla stipula del contratto e all'apertura del prodotto. Dopo aver effettuato nuovamente il login al vostro eFinance, trasferite l'importo di investimento desiderato cliccando su Trasferimento alla piastrella Consulenza sugli investimenti Plus. Successivamente l'importo verrà investito in base alla vostra strategia di investimento individuale. Dopo qualche giorno dall'avvenuta apertura, potrete richiamare la panoramica della vostra consulenza sugli investimenti Plus e visualizzare le posizioni investite cliccando sul pulsante Dettagli dell'investimento. Nella panoramica del portafoglio vi viene mostrata una panoramica della performance storica del vostro deposito. Al lato destro trovate la composizione del vostro portafoglio e i principali indici. Sotto Dettagli sul portafoglio visualizzate le posizioni attuali. La scheda Analisi vi mostra l'evoluzione del valore del vostro deposito, compresi i flussi di denaro. Qui avete una panoramica della composizione delle vostre posizioni valutarie. Sotto Monitoraggio del portafoglio vengono riportate eventuali violazioni dell'ampiezza di banda. Inoltre qui trovate la matrice Rischio-rendimento con il vostro portafoglio e il vostro focus di investimento. Infine, con i pulsanti Modifica portafoglio e Riequilibrio potete modificare o riponderare il vostro portafoglio. Nella maschera Modifica portafoglio potete modificare il portafoglio a vostro piacimento, ad esempio cambiando gli strumenti di investimento o aggiungendone altri. Al lato destro viene sempre riportata l'attuale ponderazione delle categorie di investimento e le loro ampiezze di banda. In questo modo potete individuare subito eventuali scostamenti dalla strategia di investimento scelta. Cliccando su Riequilibrio il vostro portafoglio viene messo a confronto con la nostra raccomandazione di investimento attuale. Per ogni strumento vi viene mostrata la ponderazione originale e la nuova ponderazione proposta. Naturalmente potete personalizzare liberamente anche questa proposta. Sotto Raccomandazione di investimento visualizzate le attuali raccomandazioni di PostFinance. Potete accettare, modificare o rifiutare le raccomandazioni. Con la consulenza sugli investimenti Plus approfittate della competenza negli investimenti e del supporto di PostFinance, sia autonomamente online, sia con il vostro o la vostra consulente investimenti personale.